Sono Daniela Borriello, referente per Regione Liguria di Coldiretti Impresa Pesca, che è un'associazione di categoria che rappresenta il mondo della pesca professionale e dell'acquacoltura, in questo caso per la Liguria. Oggi siamo qui per presentare ai tanti giovani che sono qui il mondo della pesca professionale e dell'acquacoltura, dandone una nuova narrazione. Questo settore appunto a volte è conosciuto, ma conosciuto in maniera errata per quello che forse era un tempo, ma che adesso non è più. È un settore che ha bisogno sicuramente di nuovo personale, ha bisogno di nuove figure, ed è un settore che è molto trasversale. È un settore che al suo interno necessita di tanta innovazione e tecnologia, quindi di tante competenze diverse, ed è trasversale perché non è solo un'attività di semplice prelievo in mare, ma è anche un'attività di divulgazione dello stesso attraverso, per esempio, le nuove attività alternative, cosiddette, rispetto alla pesca professionale, che sono quelle di pescaturismo e titurismo, ma anche tutta la filiera della trasformazione e della commercializzazione, sulla quale sicuramente le nostre imprese vogliono investire molto, anche perché c'è una grandissima domanda di prodotto ittico, lavorato e trasformato, ma di alta qualità. E quindi su questo il settore ha bisogno anche di figure molto competenti in questo senso, quindi dal punto di vista igienico-sanitario, per esempio, ma anche dal punto di vista delle innovazioni tecnologiche che possono essere applicate proprio alla trasformazione e lavorazione del prodotto.